Si conferma complicato l'avvio della stagione per il volley club Sciacca, impegnato, come è noto, nei tornei di serie C maschile, girone A, e di serie D femminile, girone A. La squadra maschile, sul campo neutro di Castelvetrano, ha perso nuovamente, questa volta contro il forte Terrasini. 1-3 il risultato finale in favore degli ospiti. Questi parziali, 16-25 e 16-25 per i palermitani, poi 25-16 per i seccensi, infine il set finale, 21-25 per il Terrasini. Il ricambio generazionale con tanti giovani in campo e l'essere costretti a giocare le partite casalinga-Castelvetrano, evidentemente, stanno pesando molto sulla squadra di Enzo Graffeo, che resta impelagata a metà classifica con appena 4 punti su 4 incontri disputati, una sola vittoria e tre sconfitte, e la necessità di tornare a vincere per la classifica e per il morale. Adesso il volley club sciacca maschile, come da calendario, osserverà un turno di riposo, in modo da potersi ricaricare e trovare la migliore condizione atletica. Per quanto riguarda la squadra femminile, guidata da Nino Marchese, sconfitta casalinga contro il vigor progetto volley di Mazzara del Vallo. Anche in questo caso l'incontro ci è svolto al palo a unità di Castelvetrano, 1-3 il risultato finale, con le ragazze saccensi che hanno combattuto in tutti i sette, ma senza successo. Questi parziali, doppio 23-25 in favore delle ospiti, poi 25-23 per le padroni di casa, infine il set finale 16-25 per le trapanesi. Il volley club sciacca femminile resta a fanalino di coda della classifica, senza punti e con un solo sette conquistato, fino a questo momento. Prossimo turno, sabato 3-dicembre in trasferta, contro il Dreamauro Panormus Volley di Pioppo, frazione di Monreale. Sarà uno scontro tra le uniche due formazioni del girone, ancora a secco di punti. Un'occasione importante, dunque, per le saccensi, per iniziare a muovere la classifica e per puntare alla salvezza. assolutamente da risolvere, però, l'aspetto relativo all'impiantistica sportiva. Non è possibile che Sciacca non abbia nessuna struttura che rispetti le indicazioni federali e che, di conseguenza, la società locale sia costretta a giocare i tornei federali a Castelvetrano, con notevole aggravio di costi e disagi per tutte le squadre.